Ecco a questo lato, partitella a metà campo in un campo infame, ma i ragazzi si devono abituare anche a giocare con questo terreno, in quanto non tutti i campi sono come il nostro, bello con l'erbetta, ecco Gianluca con Caran, Federico, ecco tutti presenti, il mister in seconda Simone dei Pulcini, Simone Giordano che porta le casacche ai suoi Pulcini, ecco che sono i nostri ragazzi, e lunedì abbiamo la gara con la SPAL in casa e giovedì il recupero a Fara San Martino con la locale con Batine, Real a ventino, mister Gabriele a seguito dell'allenamento di questa sera farà la sua formazione degli 11 titolari che scenderanno in campo lunedì pomeriggio.